Buongiorno a tutti, come vedete qua compare Android e oggi parlerò appunto di un'applicazione che ho trovato utile sul Samsung S4 ma che già utilizzavo ai tempi su iPhone 4 e l'applicazione di cui voglio parlarvi oggi e che è presente sul Google Play Store è OnawayStand. OnawayStand è un'applicazione che ci permette tramite l'utilizzo di un VPN ovvero di una specie di rete di protezione di navigare più velocemente sul nostro utilizzando la connessione dati quindi 3G, non so se anche LTE ma che inoltre comprimendo i dati in un certo modo, anche delle varie applicazioni perché ogni applicazione consuma una certa quantità di dati come ve ne saprete ad esempio Facebook consuma molto con questa applicazione riusciremo a risparmiare molto e quindi se noi abbiamo un limite settimanale ad esempio e lo utilizziamo, utilizziamo molto alcune applicazioni tipo Facebook e altro, o comunque un po' in generale internet con l'utilizzo dati, ci farà risparmiare veramente tanto quindi io ve la consiglio perché secondo me è veramente eccezionale e inoltre rispetto a una connessione dati 3G classica è un po' più fluida cioè io almeno perlomeno io avendo Vodafone l'ho trovata ancora più fluida rispetto ai caricamenti che avvenivano prima prima ad esempio quando aprivo su iPhone con Tweetbot ci mettevo un po' a caricare invece con Onovo Xtender molto più veloce, più fluido e vi permette di avere una velocità un po' migliore insomma ovviamente la velocità è quella che viene data dal provider però come fluidità anche nell'aprire applicazioni proprio nell'utilizzare le applicazioni che hanno bisogno di internet è ancora più fluido e quindi niente, vi lascerò il link in descrizione vi ringrazio per l'attenzione pollice su se vi è piaciuto il video commenti se avete consigli o problemi e al prossimo video vi ringrazio per l'attenzione